ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un video annuncio diciamo come sapete anche qualcuno mi ha commentato su youtube nella community italiana spagnola inglese insomma sta girando un money freeze ragazzi questo money freeze non è una bufala ma è un money freeze che si fa solamente per gli utenti che hanno 6 wizard quindi per tutti quegli utenti che non hanno 6 wizard non possono fare questo money freeze tanti youtuber per fare qualche visual del cazzo neanche lo dicono vi lasciano provare vi lasciano fare vi lasciano pensare immaginare e tutto il resto cosa che io non condivido e non condividerò mai e siccome non condivido questa cosa preferisco dire le cose come stanno piuttosto che fare il coglione per fare 4 visual vi dico le cose come stanno questo 6 wizard come ho già detto è un programma che serve a fare dei salvataggi questo programma costa la bellezza di 50 euro 49 99 60 dollari americani o giù di lì insomma e con questo programma potreste fare il money freeze serve anche un altro programma che è gratuito però insomma non so quanti di voi avranno necessità o voglia o bisogno di spendere 50 60 euro per fare un money freeze io personalmente non compro 6 wizard perché non mi interessa un cazzo di comprare un programmino per fare le mie cazzatine per fare il teletrasporto per fare la good mod e tutto il resto e poi far credere cose che non esistono e che un comune utente che non usa 6 wizard non potrà mai fare quindi detto questo ragazzi non mi sbomballate la minchia con questo money freeze ve l'ho anticipato ve l'ho chiarito in questo piccolo comunicato spero che sia stata cosa gradita per tutti voi detto questo vi lascio un saluto alla prossima ciao belli